Abbiamo visto che ci sono delle grandi problematiche legate a un appalto pubblico, stiamo parlando dopo tutto di soldi pubblici, ma quali possono essere le soluzioni per poter venire a capo di un appalto pubblico? Se dipendesse da me direi subito che la Regione Sardegna deve fare uno sforzo grandissimo che è quello di dare priorità al pagamento della spesa per le imprese. Se l'impresa si ferma, si ferma tutto e chiaramente l'impresa in questo momento va sostenuta perché è quella che comunque crea una possibilità economica maggiore e quindi se dipendesse da me direi Regione Sardegna fai uno sforzo maggiore, cerca di pagare immediatamente le imprese, lascia perdere qualcosa che potrebbe essere legato ad altri interventi, però l'impresa va comunque sostenuta. Non lo dico perché ho a che fare particolarmente con questo settore ma lo dico perché è di una valenza politica essenziale, o si capisce questo oppure ci si parla addosso e si fa finta di non capire i problemi. Se è vero che l'impresa fa economia, crea sviluppo, l'impresa va sostenuta subito a prescindere da tutto. Quindi forse per me potrei vedere una ripresa solo attraverso il pagamento in questo momento di tutto quello che compete alle imprese per aver realizzato già la loro opera. Non ne stiamo mantenendo perché gli stiamo fornendo qualcosa per cercare di mantenerla in piedi, gli dobbiamo dare quello che gli spetta e gli è dovuto.